Il grande albero di Natale è arrivato. Un anno difficile che nessuno avrebbe mai potuto immaginare così, ma il virus non ci potrà togliere il Natale e, anche se più sobrio degli anni passati, senza mercatini, eventi e slitte in piazza, la città di Rovigo ci prepara comunque a festeggiare. L'amministrazione comunale del capoluogo, infatti, aveva promesso che, almeno per quanto riguarda l'atmosfera natalizia, non avrebbe fatto mancare albero e luminarie che, quest'anno, a differenza degli anni passati quando erano stati sempre i commercianti a pagare, sono offerte dal Comune. Nella mattinata di lunedì 30 novembre, sul listone della piazza principale del capoluogo, piazza Vittorio Emanuele II, è arrivato il grande albero che poggia, quest'anno, ai piedi del municipio. Sulla torre campanaria di Palazzo Nodari e lungo il corso del popolo sono già state montate anche le luminarie. Terminate le operazioni per la messa in sicurezza del grande albero di Natale, si partirà con le decorazioni. Grazie. 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 Grazie.